Ciao ragazzi, siamo qui per fare una bellissima challenge, un challenge della pedana tapirulan magnetico. Io adoro il tapirulan magnetico meccanico perché non avendo un motore ti fa lavorare esattamente il triplo perché veramente devi fare molto più lavoro aerobico per farlo. Vi faccio vedere che è anche richiudibile e trasportabile, così per tutte le mie amiche là fuori che dicono non ho spazio, non so mai dove metterlo in casa mia, avete la possibilità di avere un tapirulan giusto. Un tapirulan che non è troppo ingombrante, che ci permette anche di spostarlo magari fuori in veranda se vogliamo fare a calare della luce o calare del sole a tramonto il nostro allenamento. Abbiamo questo perno che si blocca il tappeto, si richiude ma voglio anche spiegare, iniziamo a spiegare come funziona un tapirulan. Alla differenza di un tapirulan che è elettronico, tu e la forza di gravità lavorano insieme per far spostare questa pista. Questa pista corre sotto di noi perché è sempre inclinato, corre sotto di noi perché c'è una resistenza magnetica e corre sotto di noi perché ci sono diverse inclinazioni. A differenza, noi pensiamo molto al tapirulan motorizzato, io per aumentare la mia attività o intensità, che cosa devo fare? Devo aumentare la velocità. Qui, per aumentare la velocità, aumentiamo l'inclinazione perché qua dietro ho questi perni che mi permettono di cambiare l'inclinazione. Più l'inclino, più è ripido, più è veloce, è più sciolto e meno pesante, pensa, perché scorre di più. Dovrò camminare più velocemente ma più facile in tecnica. E più è piano, più diventa difficile perché non avrò la forza di gravità che mi facilita la pedalata. L'altra cosa è che quando saliamo su un tapirulan, mettiamo i piedi a bordo del tapirulan, ci mettiamo in auge sul tapirulan e ci teniamo saldamente su il manubrio e comincio a fare un passo alla volta, piano piano, ok? Piano piano passo alla volta avanzando. Non è che io inclino e comincio a perdere magari il passo perché di nuovo siamo noi che controlliamo il tappeto e non il tappeto che controlla noi. La cosa bella del tapirulan magnetici è che ti alza il battito cardiaco in 5 minuti. 5 minuti sentirai il sudore, sentirai che si accorce il fiato, sentirai che stai già entrando in un fase aerobico, io dico quasi immediato, cioè veramente pochissimi minuti perché abbiamo due volani, abbiamo la resistenza magnetica, abbiamo l'inclinazione, abbiamo la pista stessa. Io devo far avanzare questa pista e con ogni passo, non lo faccio a terra, non faccio fuori casa mia, diciamo non ho una resistenza sotto i miei piedi, no, sono io che mi sposto su la terra ferma, la terra ferma sotto i miei piedi. Invece qui avanzo, applico una contrazione muscolare, sto camminando sempre in salita e io comincerò ad avere il fiato che si accorcia. Ma la figata di questa è che io comincerò a bruciare calorie come se stessi correndo, ma non sto correndo. Io non so di quanti di voi avete problemi di caviglia, anca, genocchio, schiena, non potete più correre perché sarebbe troppo impattante per la vostra articolazione. Adesso con il tapirulan magnetico possiamo portare a casa, nello stesso lasso di tempo un allenamento più efficace della camminata, più impegnativo della camminata fuori di casa nostra, bruciando calorie come una corsa. È una gansata, è proprio la verità, la verità è questo, perché il lavoro aerobico serve. Lo so che ci sono tante persone che dicono, no, devi fare soltanto un lavoro hit, non ti serve assolutamente un lavoro aerobico, ti fa svuotare, non è vero. Il muscolo più importante del corpo è il cuore, il cuore ha bisogno del suo allenamento. L'altra cosa bella è che non devi uscire di casa. Cioè, veramente, non usciresti mai da casa tua per fare solo dieci minuti. Non lo faresti mai. Cioè, dice, ma ma che sei matta? Fai più tempo per scendere, diciamo, dalla casa tua in strada che fare dieci minuti di camminata. Invece in casa ci possiamo camminare, possiamo anche fare lavoro hit, possiamo fare altri diversi allenamenti insieme. Che faremo insieme con questo challenge? Ma ci tenevo semplicemente di iniziare, di partire, di cominciare con il nostro challenge dedicato a tapirulano magnetico. È eccellente perché cammini sempre in salita. È eccellente perché bastano dieci minuti al giorno per veramente bruciare calorie. Fa un lavoro aerobico che è fondamentale per il cuore, brucia grassi che è fondamentale per il corpo. E l'altra cosa la possiamo fare quando vogliamo noi. Perché se ci abbiamo tapirulano a casa nostra, tutto è possibile. Così, seguitemi, seguitemi sui miei social, su YouTube, su la mia palestra online nelgeocruper.com e su Facebook. E vedrete questi nuovi allenamenti dedicati a tapirulano. Vi aspetto! Grazie!